No, perché? E allora invece, Simone Venditti, non sbaglio, che è capo il gol sul topo. Certo, petto in grise. Tocco per la sponda, poi di Avada. C'è Chiri che scende a viva, stiamo ancora con la mano di Avada. Ci travi il centro campo del Napoli. Chiri che è il 9-1. Lo stagio è l'ora di nascita con licenza di pesa. Licenza di città. Esce la palanca di Gita Contini. Alzate, l'arte, Chiri che esce. Sterno per l'uomo, a Luperto. Trova la sponda di Fabio Andorizzi. Ci attiva di su. Tocco di Verdi. Su tutti. Simone Verdi. Tocco per la senese. Diagonale. Grazie. 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 Grazie.